La resistenza del mezzogiorno, che è l'argomento del mio piccolo contributo, ebbe due tempi. Il tempo dell'improvvisazione, perché nacque appunto immediatamente dopo l'armistizio, e in alcuni casi rari, casi più settentrionali nel contesto meridionale, il tempo della preparazione. Ottenne in alcuni casi dei risultati eclatanti, soprattutto considerando da dove si partiva. Si partiva dai ricoveri, dalla gente sotto le macerie, dalle file per l'acqua e per il pane. Pensiamo a Napoli, la città più bombardata della Seconda Guerra Mondiale, una città praticamente rasa al suolo, distrutta, affamata, che invece, nonostante la forza di rialzarsi, di insorgere contro i tedeschi e di cacciarli dai propri territori, Napoli fu la prima città d'Europa a cacciare i tedeschi da sola durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è, senza dubbio, un risultato significativo. Certo, i tedeschi se ne volevano andare, questo è stato detto, e la storiografia non l'ha mai nascosto. L'avrebbero fatto, però, portando con loro molti più uomini di quelli che riuscirono a portarsi, e distruggendo molte più infrastrutture di quelle che effettivamente distrussero. Se ciò non avvenne, è merito dell'insurrezione partenopea. Napoli, però, è stata a lungo considerata un'isola felice, diciamo, un'eccezione, all'interno di una regola che vedeva il sud immobile, attendere pacificamente o passivamente la liberazione che doveva arrivare da altrove, e che, insomma, attendere che la nottata passasse. In realtà non fu così, non è stato così mai nella storia meridionale, non fu così durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale, al di là di Napoli, delle quattro giornate, prima e dopo quell'evento, ci fu tutto un sud che si mosse, che innanzitutto si difese, e che poi, quando fu possibile, passò anche all'attacco. Era il Mezzogiorno che faceva parte di un contesto particolare, che era quello di un Mediterraneo, in cui tanti italiani, che si trovavano lì, soprattutto perché militari, cercarono, in molti casi, di dar vita a dei tentativi di resistenza. Sappiamo molto bene che questi tentativi furono per lo più sfortunati e le conseguenze drammatiche, ciò nonostante vanno inseriti, a pieno titolo, in quella che è considerata la prima resistenza. Prima di Napoli, addirittura prima dell'armistizio, ci fu, ad esempio, il cosiddetto civico coraggio di alcune popolazioni etnee che si ribellarono, siamo nel luglio del 43, gli alleati erano sbarcati, ma non ancora arrivati, alle violenze, alle prepotenze di quelli che erano ancora i nostri camerati, i nostri alleati, cioè i tedeschi. A Pedara e Mascaluccia, la popolazione insurse. Qualcuno ha voluto vedere, in questi episodi, degli episodi di resistenza ante l'Ittenam, probabilmente eccessivo, ma non vanno tuttavia dimenticati e vanno inseriti in quel contesto. C'è poi l'altra grande isola, la Sardegna, dalla quale i tedeschi sarebbero andati via totalmente indisturbati, tra l'altro portando con loro volontariamente, spontaneamente, tanti italiani che andavano a fare repubblicani a Salò, se non fosse stato per alcuni militari e civili che alla Maddalena spararono contro di loro, obbedendo agli ordini superiori. Anche questi sono episodi della cosiddetta prima resistenza. Mentre la Carabria non subì, per fortuna, l'occupazione tedesca, ma già si intravedevano i segnali di quelle che sarebbero state le occupazioni delle terre, Basilicata e Puglia furono travolte dal passaggio dell'esercito tedesco in risalita verso il nord. Ad esempio, a Rione Reunvulture, molte persone morirono perché tentavano di reagire alle rapine effettuate dai tedeschi. Anzi, quando un italiano, un contadino, reagì al furto di una gallina, operato tra l'altro da un militare della Nembo, quindi da un ladro di polli italiano, i tedeschi per rappresaglia uccisero 18 persone, a Rione Reunvulture il 24 settembre. Questo fu uno degli episodi di violenze contro i Nermi, delle stragi contro i Nermi, che martoriarono il sud in quell'estate autunno del 43. Il sud, in un periodo di tempo molto breve rispetto al resto d'Italia, ebbe più di 1700 morti inermi il sud, stranne l'Abruzzo. Quindi vittime, ma non soltanto vittime. Quando poté il sud reagì, rispose alla violenza tedesca. A Matera addirittura ci fu un'insurrezione cittadina che precedette Napoli di parecchi giorni, il 21 settembre, un'insurrezione che rispondeva alla necessità della popolazione di difendersi dalle violenze, dai saccheggi, dalle rapine, dalle ruberie che i tedeschi stavano praticando in città. E in Puglia, a Bari, ci fu uno degli episodi più importanti della resistenza dei militari nel Mediterraneo. Il generale Nicola Bellomo infatti salvò il porto di Bari, un porto fondamentale per la campagna d'Italia degli alleati, dalle distruzioni operate dai tedeschi. Lo fece tra l'altro in un contesto in cui i suoi parigrado, o addirittura i suoi superiori, tentavano di mettere al sicuro se stessi invece che difendere il territorio in cui esisteva il loro comando. Pensiamo che tra i superiori di Bellomo c'erano quel re, quel badoglio che stavano in quelle stesse ore mentre lui difendeva Bari cercando rifugio per se stessi in Puglia. Ce ne furono diversi episodi in cui i militari, molto spesso insieme ai civili, in quelle ore subito dopo l'armistizio, reagirono alle violenze tedesche. Furono numerosi tentativi, molto spesso destinati alla tragica sorte dei resistenti, ciò nonostante sono appieno titolo episodi di prima resistenza da considerare all'interno di un quadro complessivo. Continuando con la risalita verso nord, c'è il Molise. In Molise fece le prime prove quello che sarebbe stato il nuovo esercito italiano che si ricostituiva proprio in quei giorni, mentre la stessa popolazione, oltre a subire la violenza tedesca, cercava anche di reagire con episodi di resistenza di civili e civile. Poi c'era la Campania, che vide la resistenza come un fenomeno diffuso sul suo territorio, anche se completamente trascurato perché offuscato dalla reputazione, dalla notorietà di ciò che avvenne nel capoluogo campano, cioè a Napoli. La Campania invece visse ovunque episodi di resistenza, sia di militari che di civili, militari e civili insieme, episodi di resistenza cittadina oppure al di fuori del contesto urbano, e anche episodi di resistenza civile. Tutte e cinque le province della Campania furono interessate dal fenomeno con dei picchi di intensità nel Salernitano, nel Napoletano e nel Casertano. Ad esempio resistette Scafati, una cittadina del Salernitano, il cui salvataggio del ponte sul Sarno sarebbe stato così importante per l'avanzata alleata da essere menzionato da Radio Londra. Anche le cittadine intorno a Napoli riuscirono a resistere o provarono a resistere in episodi di resistenza che spesso scatenarono la violenta reazione dei tedeschi, come ad esempio avvenne ad Acerra. Il Casertano invece, che è il territorio più settentrionale del nostro Mezzogiorno, vide l'organizzazione di alcune piccole formazioni che si scontrarono contro i tedeschi, per esempio a Santa Maria Capua Vetera, a San Prisco, a Capua. Questa resistenza più organizzata è oggi oggetto di ricostruzioni più precise da parte di una storiografia più informata e nuova che utilizza anche fonti storiografiche di nuovo accesso. Voglio concludere questo mio intervento ricordando che una gran parte della resistenza meridionale fu fatta dai meridionali che in quel periodo si trovavano per ragioni diverse, familiari, lavorative, militari o addirittura politiche, al centro-nord. I meridionali che presero parte alla resistenza al centro-nord furono numerosi, tanti persero la vita, tanti però fecero di quell'esperienza un bagaglio politico-culturale che poi avrebbero speso nel dopoguerra. Io voglio concludere questo mio intervento augurandovi un 25 aprile meraviglioso nonostante tutto proprio leggendo un piccolo pezzo del partigiano Johnny che parla di questo. Dai ranghi sgusciò un uomo e si appressò a quel podio naturale di nord. Era basso e bruno, ex ufficiale dell'esercito e meridionale degli infimi. Comandante, gridò, tu parli dell'inverno come finito, ma io ti ricordo che ce ne resta ancora un paio di mesi in questi disgraziatissimi posti settentrionali. L'assembramento erogì di risate. Io parlo, proseguì, io ho l'onore di parlare a nome dei paesani miei terroni, di noi che soffriamo atrocemente il freddo e ne soffriremo fino al 21 marzo. Nord rise. Leo, che colpa ne ho io, ne abbiamo noi se voi siete sporchi, tremolanti, terroni? E di nuovo ruggirono risate e mai il nord aveva tanto amato il sud e viceversa. E sui greppi circostanti i contadini risero in cieca simpatia.